Quando per scattare una foto basta usare il telefonino e macchine digitali creano memorie istantanee, è facile confondere l'arte di documentare la realtà con l'arte di svelarla. Eppure il messaggio della fotografia rimane più forte che mai e ha sempre un certo fascino immaginare il fotografo nella sua camera oscura, mentre dosa con grande pazienza luce, colore ed ombra. Le fotografie di George Tej ci invitano a fare precisamente questo. L'artista, con una carriera notevole alle spalle, incluso un periodo come direttore del Museo Nazionale Alinari della Fotografia, offre presenze, paesaggi italiani, alla Villa Bardini. Con una collezione di immagini, la maggior parte inedite, Tej presenta la natura nel suo stato più etereo. Perceppiamo la presenza dell'uomo nei segni che lascia sulla Terra. Chissà, forse il background cosmopolita dell'artista è italo-americano nato ad Istanbul, lo ha portato verso una ricerca di quegli spazi aperti e di quei fenomeni naturali non limitati da nazionalità o identità etnica. L'ispirazione per la serie, compiuta in un arco di 25 anni, è anche dalle ricerche del land art degli anni 70. Tej svela le origini del paese con immagini che hanno un senso quasi inquietante e sicuramente misterioso. Presenze, paesaggi italiani, alla Villa Bardini fino al 28 settembre, Emilia Carlson, C10. Presenze, paesaggi italiani, alla Villa Bardini fino al 28 settembre,